Il copywriting è una forma di scrittura persuasiva utilizzata per influenzare il comportamento del lettore o dell'utente, solitamente con l'obiettivo di vendere un prodotto, un servizio o persuadere l'utente a compiere un'azione specifica. Sebbene non ci siano segreti assoluti, ci sono principi e linee guida che possono aiutarti a scrivere copie più efficaci. Ecco alcuni suggerimenti. Conosci il tuo pubblico. Prima di iniziare a scrivere, devi avere una comprensione approfondita del tuo pubblico target. Chi sono? Quali sono i loro bisogni, desideri, problemi e obiettivi? Adatta il tuo messaggio in base a queste informazioni. Cattura l'attenzione. L'inizio del tuo testo deve essere accattivante e intrigante. Usa titoli, sottotitoli o frasi di apertura che suscitino curiosità o risolvano un problema immediato. Comunicazione chiara. Scrivi in modo semplice e diretto. Evita il linguaggio complesso o ambiguo. Usa frasi brevi e chiare. Evidenzia i benefici. Concentrati su ciò che il tuo prodotto o servizio può fare per il cliente. Comunica i vantaggi e i risultati attesi in modo convincente. Utilizza la prova sociale. Mostra recensioni, testimonianze o casi di successo di clienti soddisfatti per dimostrare la validità del tuo prodotto o servizio. Crea un senso di urgenza. Incoraggia l'azione immediata offrendo offerte a tempo limitato o evidenziando l'importanza di agire ora invece di rimandare. Usa il potere delle parole. Alcune parole e frasi hanno un impatto maggiore. Ad esempio, parole come gratis, risparmia, esclusivo, garantito, possono attirare l'attenzione. Storia e narrazione. Racconta storie che coinvolgano il lettore e lo rendano più propenso a connettersi con il messaggio. Chiama all'azione. Fornisci istruzioni chiare su cosa fare dopo aver letto il testo. Ad esempio, clicca qui per acquistare ora. O iscriviti alla nostra newsletter oggi stesso. Test e ottimizzazione. Non esiste una formula universale per il copywriting. Sperimenta, misura i risultati e ottimizza costantemente le tue copie in base ai dati e al feedback. Conoscenza del prodotto. Devi essere un esperto nel tuo prodotto o servizio. Conoscere a fondo ciò che stai promuovendo ti permetterà di comunicarne i vantaggi in modo più convincente. Rispetto per la legge. Assicurati di rispettare le leggi sulla pubblicità e la comunicazione, evitando affermazioni false o ingannevoli. Ricorda che il copywriting è un'arte che richiede pratica costante. Studia le copie di Sakshi.